La Casa Museo Ivan Bruschi torna a riaprire le sue porte all'arte contemporanea e lo fa con i video del rivoluzionario ballerino e coreografo Mercy Cunningham. Prosegue infatti la collaborazione con la Fondazione Palazzo Strozzi di Firenze. Dopo Bilviola e Marina Abramovic le sale del museo ospitano così un altro fuori mostra, in questo caso della grande esposizione American Art 1961-2001. Abbiamo scelto due video di Mercy Cunningham dedicati alle performance della danza e della gestualità ma non soltanto a quelle, infatti i riferimenti all'arte con Jasper Jones, con Robert Rauschenberg sono evidenti nelle scenografie delle due performance coreografiche. E quindi abbiamo pensato che avendo ormai da tempo la Fondazione una vocazione interdisciplinare, questo tema della gestualità e della danza può essere coniugato con la nostra stagione musicale, con le attenzioni che sulla terrazza diamo alle possibilità del fisico, dallo yoga, ad altre situazioni che potranno nel tempo avere una importante continuità. Il percorso video sarà visitabile sino al prossimo 29 agosto.